Il libro che ci è costato due anni di pratica e che abbiamo scritto con grande passione, che innanzitutto per me serve a colmare una piccola lapuna. Furio Scarpelli è uno sceneggiatore che è scomparso circa due anni fa, nell'aprile del 2010 e che come molti sceneggiatori in un paese che ancora confonde lo scenogroco con lo sceneggiatore non è conosciuto come dovrebbe, Furio Scarpelli invece a mio parere è uno dei grandi protagonisti della cultura novecentesca Tupur e ho coinvolto la giovane Alacre e Chiara che segue qui al mio fianco e abbiamo iniziato ad inseguire i superstiti, perché Scarpelli nasce nel 19 e ha fatto soprattutto insomma un cinema diciamo così gli anni 60 e 70, quindi purtroppo i grandi suoli sodali, i collaboratori da Municelli a Comencini, da Tirolisi a Alberto Sordi, da Domiazzi a Vittorio Gasma erano tutti scomparsi. E poi cerchiamo di farvi capire insomma che cosa di più potrete trovare su questo libro che ok racconta la sua biografia, però il nostro scopo era un po' quello di cercare lo scarpello inedito, quindi attraverso le testimonianze, la persona, chi era, i racconti. La cosa che secondo me lo rende, come dicevi prima, fondamentale per la storia italiana del novecento è che lui è riuscito attraverso i film in cui ha lavorato a raccontare un momento fondamentale dell'Italia, cioè quella in cui è passata da un paese povero a un paese con grandi speranze, spesso, ed è questo forse il dolce amaro della comedia italiana. Un'altra cosa che mi piaceva dire a parte è che all'interno del libro, oltre a tutto quello che è il saggio cinematografico, c'è anche una bellissima storia d'amore, questo bisogna dirlo, perché comunque lui ha portato avanti per tanti anni una storia con Cora che è stata la sua unica moglie e insomma in quell'ambiente lì è difficile avere un matrimonio così duraturo e così bello, invece loro ci sono riusciti e quindi c'è tutto il libro che è pervaso da questo amore lunghissimo con Cora che racconta le prime, i primi tentativi di furio che la inseguiva nell'autobus, lei scendeva e lui la inseguiva di nuovo. Per quanto riguarda gli allievi, come cercavo di dire, senz'altro la personalità in cui il magistero di Scarpelli è più scopertamente rinvenibile è proprio quella di Paolo Virzi. Scola ha fatto un'antiprefazione in come era nel suo stile, cioè Ettore Scola non è uno che ama fare prefazioni, questo chiunque lo conosca un po' lo sa, quindi quando gli abbiamo chiesto la prefazione lui era tentato perché da una parte diceva sì mi piace il libro, l'ha letto, era comunque... In tutte le fasi del suo ricco percorso, dai film meno memorabili a quelli considerati lezioni di scrittura, Furio è stato sempre più animato, direi presidiato dalla responsabilità di raccontare con levità una società ricca di ingiustizie e scarsa di principi ideali e morali che appunto per questo andava incoraggiata anche dal cinema verso la solidarietà, verso la democrazia. La predilezione per i casi delle classi meno privilegiate, l'indulgenza per le fragilità umane, l'attenzione al buffo nel drammatico e al tragico nel pagliaccesco, insomma l'avversione per enfasi e retorica, per santi e per eroi, diventarono tratti comuni di quella commedia che non aveva come unico e inderogabile scopo quello di far ridere. Ettore Scuola